l'easy mando custodia in tpu per huawei p8 lite con elefanti questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi quest'oggi la custodia si trova all'interno di una confezione di plastica trasparente insieme al biglietto da visita dell'azienda una volta in mano la custodia appare veramente leggera abbiamo soli 18 grammi inoltre le dimensioni sono di 14,3 x 7,2 x 1 cm molto carino questo disegno sulla parte posteriore della custodia un disegno che al tatto appare in rilievo la custodia di questo tpu morbido un tpu che comunque va a proteggere il nostro device e inoltre le feritoie in corrispondenza di fotocamera speaker e entrata jack sono tutte presenti nel complesso una custodia leggera protettiva e con un design carino diciamo diciamo